Diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, iniziò a recitare in spettacoli amatoriali e interpretò testi teatrali di gatti. Sbraggia Shakespeare al piccolo teatro. Successivamente alternò l'attività teatrale a quella cinematografica, nella quale ebbe occasione di dare ottime prove di sé con grandi registi. Impegnato politicamente, fondò la compagnia I Compagni di Scena, con la quale si dedicò ad un lavoro di ricerca su testi alternativi. Sata Flores è morto a Roma all'età di 48 anni. Stroncato da una grave forma di leucemia, ha avuto due figlie, Francesca, attrice, regista, drammaturga e sceneggiatrice, ha avuta dalla moglie Carla Tedesco. E Margherita, doppiatrice, ha avuta dall'attrice e doppiatrice Teresa Ricci. Per il cinema lavorò con registi come Elina Wertmuller, I Basilischi, Dario Argento, Quattro mosche di velluto grigio. Ed Ettore Scola, c'eravamo tanto amati. La terrazza, a lui è intitolata Una strada nel comune di Roma. In zona porta di Roma e nel comune di Fonte Nuova. Rm, nella frazione di Tor Lupara.